Obenam ci hanno riassegnato al project future Cos'è che era? Mi tocca richiamare il capo Sì? Mio signore, l'ho richiamata per capire se i suoi ordini erano davvero quei... Questa è l'ultima volta Ok signore, quindi mi conferma che stiamo cercando... Ditelo! Tutte le notizie concrete e reali presenti là fuori nella galassia Eppure i leak Fino all'ultimo Eh no scusa, gli ore non erano mica questi Leak e spoiler sono essenziali per coinvolgere il pubblico Non possiamo dar sempre solo cose di triggio vecchie Non si capisce mai niente Lo sapete? Data la vostra reluttanza Aspetta, lui è reluttante, mica io Leak sono essenziali Sono essenziali Scusa, leak sono sempre leak e ti farò vedere l'esperienza Perché ti spogliono le cose anni prima E poi ti farò pensare che ci sono cose che non ci sono E poi quando ci sono, non ci sono I leak sono sempre un problema Questi vistici sono fuori luogo Sono stanco di chiedervelo No, no, nessun problema Mo' procediamo Immediatamente Sì signore Allora Hello there Qui è il comandante che vi parla Con me c'è TK Tush Buonasera, buonanotte e buona Pasqua a tutti signori Ormai sei davvero brandizzato TK Tush Sappi no? TK Tush TK Tush Ma vabbè non è così male Poteva andare peggio Poteva anche essere Tush Lohat Per quanto ne sappiamo Tutto attaccato con tre H E sarei stato un lumacone Lohat Vecchio Di prototipi Ah sì A proposito della Tarkin Initiative In realtà uno dei mille progetti di Tarkin è stato cercare di militarizzare gli atti Lasciamo stare Esatto Vabbè vabbè uno ci prova Uno ci prova Lasciamo stare Tarkin nei fumetti A parte la serie del 2017 È un disastro Quindi Quindi Lasciamo stare Ma a me il dia degli atti sotto forma di trooper non sembra male No lo so È che il punto è che Sono grossi Forti Non è tanto quello Non è tanto quello Cioè è che il come trattano la cosa È il Vabbè è una delle mille idee che ha avuto Tanto per Cioè sembra quasi non curante di queste sue idee No? Cioè tipo Vabbè diamo un fucile a un atto e vediamo che succede Tarkin non è veramente così Esattamente Cioè ci mette impegno nelle cose Avrebbe un po' più di seno dietro Esatto Invece no Sembra Sembra tutto così fruffrume È questo che non sopporto Vabbè Il buon Tarkinio Va bene Allora intanto Cominciamo un attimo con una Prima di entrare in qualche eventuale topic Specialmente vogliamo sapere tutti quanti La tua su Visions Perché non ne abbiamo mai parlato Assieme È vero È vero È vero Non ne abbiamo parlato Pubblicamente insieme Diciamo Sì Però anche Anche privatamente Non ci siamo troppo sbilanzati Ci siamo trattenuti apposta Esatto Quindi Esatto Esatto Vision Aspetta Prima Allora Voglio rompere Visto che questo comunque è un canale anche di news Abbiamo delle news Bisogna Bisogna dire queste cose per primo Abbiamo una Ok Ci sono news Eh sì Ci sono Come Abbiamo una release date di Book of Ova ufficiale Esatto Esatto Finalmente Nell'arco Temporale Anche un po' tutti ci aspettavano Sì Ci avevano già detto Dicembre Quindi Sapevamo che era dicembre Perché c'era scritto Nel Se non ricordo male Era proprio scritto Holidays Era scritto Holidays Nel post-credits Holidays Io mi ricordo Io mi ricordo No No Non c'era scritto dicembre Quello è sicuro Ah ok Ok Non mi ricordo male allora Vabbè Comunque Non so dove Ma era Era abbastanza chiaro Fosse dicembre Ormai L'uscita Il punto Adesso Il punto è che Avevano promesso dicembre 2021 E ci hanno preso in giro Per virgolette Nel senso che È il 29 dicembre Però sempre dicembre eh Quello c'entra Sì Non hanno detto L'1 dicembre Non hanno detto dicembre Dicembre fa la L'1 al 31 Eh Sì Io non ho Cioè Allora Capisci bene Che anche dal loro punto di vista È tipo Una data terribile Ma vabbè Quindi era proprio un Vabbè Gliel'abbiamo promesso Non possiamo fare altrimenti Non abbiamo voglia Di posticiparlo Anche perché poi Il 2022 Sarà così pieno Di roba di Star Wars Che anche loro Non possono rimandarlo Troppo Troppo Ma forse l'ha messo lì Un po' più tardino Appunto per incastrarlo meglio Cioè per far sì Di non avere Dei particolari Buchi Cioè Finisce Questo Mandalorian 2.5 H Book of Boba E parte subito Non lo so Adesso potrebbe essere Un Obi-Wan Che nobi Per quanto ne sappiamo Un po' presto sarebbe Perché Farlo al partire Pre-estate Mi sembrerebbe Un po' Carlo Quello che Ipotizzano tutti Me compreso Perché la logica È quella 4 maggio Sì Cioè nel senso C'è anche il rumor Che proprio dicono A maggio Inizia che nobi E ha senso Però il concetto È che Comunque Andor Hanno appena finito Le riprese Che nobi Le hanno finite Da un pochino Da un po' Sì Esatto Da un mesetto Anzi 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 Kenobi sono 6 E Andor Sono tipo Una dozzina E quindi Il post-produzione Di Andor È molto più Laborioso Di Kenobi E poi ha finito Anche dopo Quindi Esce prima Kenobi di Andor Categorico E poi C'è sempre Lo speriamo tutti Anche perché Tutti quanti Vogliano Kenobi Il 14 Quarso è quello Vabbè Più di Andor Nulla da togliere Dal buon Cassia Però Dai Dai Non scherziamo Poi probabilmente Andor Potrebbe essere Una gran bella serie Però Kenobi Non c'è Mandalorian che tiene Dai Non c'è niente In Star Wars Che tiene O mi metti fuori Una nuova trilogia Non c'è neanche Sequel trilogy Che tiene Il film Kenobi E il ritorno Di Eden Christensen Sì No 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 Non c'è storia Non c'è storia Ma ogni cosa Se rovinano Quello È Però Casomai Una trilogia Prequel Tra episodio 1 Ed episodio 2 Basata sulle vicende Di Jar Jar Binks Di come lui Da semplice Gungan Diventa Senatore Poteva essere Molto interessante E hanno sempre Il tempo Di fare Queste cose Vai tranquillo Sarebbe terribile E quale rivolta La gente La gente davanti Ai Lucas Studio Con i forconi Le torce Chiedendo la testa Di George Lucas Che non c'entra In tutto ciò Ormai Guarda Però ormai Sarebbero Contenti Secondo me Ne trovi Di persone Perché tanto Il punto è che Jar Jar Non esclude Nient'altro Cioè se tu fai La serie su Jar Jar Tra l'1 e il 2 Intanto vai a pescare Finalmente un'area Temporale Che non esplori mai E quindi comunque Anche lì Avresti mille guest Perché è una serie Di Star Wars Quindi avresti mille guest E esplori anche loro Il senato Le cose Cioè Oh È una fantastica serie No 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 Aspetta L'unica cosa Per assurdo Che è il protagonista Che tutti odiano Però non sarebbe La trilogia sarebbe esagerata Però che tutti odiavano Perché ti ricordo Il solito discorso Che ora c'è La ripartata Ancora Però ancora Adesso comunque Cioè se parli Di Jar Jar Binks Comunque un po' Il brevidino Sulla schiena Corre Beh dai Un pochino sì Fidati Fidati Che si dica Ahmed Best Ritorna Nel ruolo Jar Jar Binks Perché fa la sua serie E la scrivono Buffa Ma buona Cioè Quali La gente La prende in giro Ma nel senso buono Cioè La si accoglie Con un sorriso Comunque Non è che si deride Per il gusto Di distruggerla Perché la gente Ma perché la gente ancora Sì perché la gente Comunque Adesso Ha qualcosa Da demonizzare Più Jar Jar Binks Sì Ma qualche anno fa Non potevi dire Eh no Peggio di Jar Jar Non puoi fare Poi Poi sono andati In un casino Spaziale Una corsa Con delle capre Giganti È il solito discorso Cioè I bambini Sono cresciuti E quelli che Da piccoli Vedevano i prequel Ora hanno Più voce In capitolo Che in passato E fra Una quindicina D'anni Ci saranno I sequel Ad avere la meglio È un cane Che si morde la coda Only time can tell Comunque 29 dicembre Dicevamo Ok Esatto Però ha anche Rilasciato un articolo Starwars.com Nel dichiarare Questa data E adesso Ce lo leggiamo Tan 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 L'ho fatto tradurre Da Google Quindi sarà divertente Vedere cosa si inventa Oh Molto bene Molto bene Il libro di Boba Fett Già traduce Il libro di Boba Fett Sarà Tra l'altro Sì Potrebbe Farebbe molto ridere Se traducessero lì Il titolo Ah Non lo fanno più Dai tempi di guerra Cioè Il sottotitolo Lo traducono Lo traducevano Sì 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 Però Anche oggi Farebbe ridere Se lo traducessero Anche questo Da The Book of Boba A Il libro di Boba Secondo me lo faranno E lo chiameranno Il libro di Boba Fett Sì Secondo me Potrebbe Ci può stare Può succedere Può succedere Ah sì sì Comunque Il libro di Boba Fett Sarà presentato in anteprima Il 29 dicembre Su Disney Plus Va bene Oggi è annunciato Che The Book of Boba Fett E la nuova serie Lucasfilm Presa In giro In una sequenza Di titoli di coda Come Il traduttore fantastico La nuova serie Lucasfilm Presa in giro In una sequenza Di titoli di coda A sorpresa Dopo il finale Della seconda stazione Di The Mandalorian Sarà presentata In anteprima Mercoledì 29 dicembre Esclusivamente sul servizio Di streaming Disney Plus Ah anche presentato A KeyArt Per la serie Esatto Abbiamo il poster Che immagino Tu abbia visto Uno con Boba Sì Esatto Seduto Appollaiato Seduto sul suo trono Tu 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 Va bene Suo Allora Il libro di Boba Fett Sì dai Un'emozionante avventura Di Star Wars Vede il leggendario Cacciatore d'Italia Boba Fett E il mercenaio Fennec Shand Che navigano Negli inferi Della galassia Quando tornano Alle sabbie Di Tatooine Per rivendicare Il territorio Un tempo governato Dalla Jabba de Hatt E dal suo crimine Sindacato Il suo crimine Sindacato Eh vabbè Traduttore Ci piace Il crimine Sindacato Il libro di Boba Fett Il protagonista Fennec Shand Non è neanche Non è stato anche Regredito a mercenario Neanche più Cacciatore d'Italia Esatto È un mercenario Fennec Shand Un mercenario Del cazzo Quindi sì Sono loro Poi vabbè John Favro Dei Filoni Roberto Rodriguez Che era il regista Che ha diretto Il sesto episodio Di Mandalorian Season 2 Esatto Poi Cassian Kennedy Colin Wilson Sono i produttori Esecutivi E altri nomi Va bene Molto bene Quindi sì Diciamo che Ci hanno dato Una trama Teoricamente Sì Era più o meno Quello che potevamo Non hanno detto Ci aspettavamo Un pochino Non hanno detto Sarà una serie Antologica Di racconti Di Boba Fett No Ci hanno detto Saranno Boba Fett E il mercenario Fennec Shand Che navigheranno Nell'underworld Quando tornano A Tatooine Per proclamare La loro terra Insomma Quindi Saranno loro Che combattono L'underworld Di Tatooine Sì Però Non esclude La possibile presenza Di flashback Assolutamente Comunque Non viene escluso Come Come fatto ora No no Assolutamente Assolutamente Quindi E Detto questo Bene Esatto Questa è la notizia del mese Poi vabbè C'era anche Quel video Che ti avevo girato Di Obi-Wan Kenobi Che aveva ricevuto Non mi ricordo Credo Un Emmy C'è stato E gli hanno chiesto Ma quindi Kenobi Cosa ci dici Do you keep Any Obi-Wan For us Not really We finished Our shooting Our series And it was Really Really good fun I really enjoyed Working with Debra Chow And You know I think it will not I think it will not Disappoint I mean You know I think it's Going to be good I had a really good Time making it And worked with Some really wonderful People Lovely people And The new Technology That we employed Doing it Is cool And It was a different Experience than making The original three films That I did And I really Really liked it It was good But I'm not going to tell you Anything else Sorry E lui ovviamente Ha detto Ah molto bello Abbiamo finito di tirarlo Fine Esatto Ovviamente Ha sottolineato Quanto Non potremmo Essere delusi La gente Sarà contenta Sarà contenta Non rimarrete delusi Non posso dire altro Ciao E beh Penso Potrebbero Ucciderlo Quindi dal Ma io Lo uccido Se spoiler Era qualcosa Sì A parte Quello No No Non è vero Non possiamo Dirgli niente Lui è troppo Bello e bravo Però Ci sta che non Su certi progetti Non puoi Dire nulla Cioè Puoi dire Sì Dobbiamo finire Girare Mi piacerà Fine Certo Certo Già il fatto che dice Che ci piacerà Comunque Mi fa piacere Perché Ok Lui non è Mark Hamill Però Quando Hamill Parlava Alla Prima conferenza Il film Di prequel Di sequel Cercava di avvisarci Cioè Lui Non è che Le andava entusiasmo Ah è un film Grandioso No Non l'ha mai detto Diceva Boh Vediamo se vi piace No E anzi Continuava a ribadire Ogni volta Prima dell'uscita Dell'otto It's not Luke's story Anymore Non è più La storia di Luke Non lo è Cioè Praticamente Cercava di avvisarci Del fatto che Luke Non faceva una minchia Non è più La storia di Luke Si arriva Ti era giù Il cappuccio Fine No ma proprio Anche per Quando parlava Dell'otto Cioè Dell'otto Ah si si Quando si riferiva All'otto Pre uscita Otto Diceva No no ma Non è più La storia di Luke Stiamo passando La torcia A questi nuovi Eroi Eroi Ed eroine Non è più La storia di Luke Cioè Proprio lo ripeteva Ogni conferenza Non aspettatevi Niente Da Luke Poverino Sì Però Anche lui stesso Non era convinto Della cosa Però Scherzi Scherzi Assolutamente No Infatti Pieno di interviste Super evidenti E molto tristi Del suo Tentare Di abisarci Dice Hanno ucciso Hanno ucciso Il mio personaggio In malo modo Hanno ucciso La sua carriera morale I suoi sogni Da attore Lui era Da Da quando aveva finito Il primo Film di Star Wars Il 4 Che già Aveva nella testa Il fatto che Avrebbe dovuto fare Nei secondi Insomma Negli anni 10 Del 2000 Quindi Una decina Di anni fa Un'altra trilogia Cioè proprio George Lucas Ieri aveva detto Ha detto Sì sì Farò i prequel E poi farò i sequel Trovi proprio Interviste Degli anni 80 Con anche Carrie Fisher Che dice Ma sì Avremo un figlio Probabilmente Con i capelli lunghi Che ne vedremo Sono bellissime Quelle interviste Eh ma Perché infatti Anche lo stesso Lucas Non aveva idea Di come Sarebbe andata La storia Dopo il 6 Non nel dettaglio Mi sapeva No Aveva una vaga idea Aveva molte Qualche bozza Però Aveva Sapeva abbastanza bene Cosa era successo Prima Ma Il dopo Ma Insomma Sapeva un qualcosina Lì Qualcosa Là Però Nel senso Il concetto è che Per i prequel Aveva una linea guida Per i sequel Aveva una linea guida Poi Si è messo a lavorare Sui prequel E quindi ha cominciato a scavare Su quella sua linea guida I sequel Non si è mai messo a farne Quindi Perché ha venduto la Disney Quindi Sì Perché era stanco Quindi il concetto Sta lì Che poi tra l'altro Era già stanco Anche all'epoca I primi Lui già con la trilogia geniale Beh un uomo Sì Un uomo molto stanco In effetti Oh doveva essere difficile Creare Star Wars Cioè non è che Ha fatto American Graffiti Ed era già stanco I soldi lo stancano È una cosa pesante Il fardello del denaro Deve essere pesante Da portare Infatti c'era Un'intervista Di una comparsa Che Dice Il suo primo giorno Sul set Del primo Guerra Stellare Appunto Si ritrovava lì E appunto Non sapeva con chi parlare Quindi becca Sto qui Che In un angolino Si beveva un caffè Cioè ma quindi Se sei nuovo anche tu Cosa facciamo Non so se cose E lui Ah Guarda Non lo so Vabbè Eccetera Io mi prendo un altro caffè Sempre a bere Sto caffè E ovviamente Era George Lucas Questo qui Era George Lucas stesso Ovviamente Era George Lucas Quello nell'angolino A bere caffè Tutto il giorno E chiaro E non sapeva Cosa stava facendo Quindi Grande George Quindi ovviamente Il nostro Inviterò al mio matrimonio Sarà troppo stanco Per venire Esatto La sua risposta È quella Grande Eh Bene Siamo decaduti Malissimo Dentro dei discorsi Si siamo Siamo divagati Nel totale Nella totale assordità Torniamo Al nostro Book of Boba Che è in uscita Quasi Vicina Quasi Sì nel 2022 Più o meno No 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 Esce nel 2021 Poi Il primo episodio Poi Continua nel 2022 Perché è una serie lunga Si sa quanti episodi sono Credo O sei o otto Qui non c'è scritto Non l'hanno ancora annunciato Qui non c'è scritto Non l'hanno ancora annunciato Secondo me L'avevano detto Da qualche parte probabilmente Però qui non l'hanno ribadito Quindi forse Non era ufficiale Però sono abbastanza sicuro Che siano ufficiali Sei di Kenobi E Bene E che Andor Che dovrebbe essere Più che Perché hanno tempo da perdere E Che poi Kenobi Più che serie Lo chiamerei un film lungo Sì sì Dovrebbe essere un film lungo 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 Sì ma Perché essendo Serie stand alone Cioè che Mono stagione Io spero che sia un lungo film Casomai tagliato In modo da darti Un po' di cliffhanger Simile A fine di Un episodio O un altro Però La classica cosa Che l'episodio inizia In realtà a metà episodio E finisce Nella metà dell'episodio dopo Cioè Quelle serie Che sono sfalsate Tipo Breaking Bad Era così Cioè Infatti io guardavo La prima metà Dell'episodio Cioè A una certa Che cosa succedeva In realtà Che io mettevo pausa A metà episodio Perché lì Si chiudeva davvero La parentesi E poi Poi iniziavo Un altro Poi iniziavo Esatto Un altro giorno Finivo Quella metà di episodio Vedevo la metà Dell'episodio successivo E poi rimettevo pausa Perché era letteralmente Così Letteralmente Sfalsato Tutto apposta Per far chiudere L'episodio A metà della storia Sempre Quindi Bisogna sapere Quando Vediamo Vedremo Vedremo Comunque Si Però Su sei episodi La storia Non penso Ci potranno Servi Grand tempi morti No infatti Cioè Al fine Anche Loki Erano sei episodi Primi episodi Però Eh si Però Loki Ha anche Una stagione 2 Si Però Anche se non ci fosse stata Cioè Il concetto Che Quello che dicevamo Il ritmo È stato Gestito bene Ed era serrato Bene Adesso appunto Non vogliamo entrare Nei dettagli E fare spoiler O chissà che Perché questo Non è il luogo Per parlare Della Marvel Però il concetto Che comunque Erano sei episodi Belli Densi Dove ognuno Voleva raccontare Qualcosa Quindi Mi aspetto Una cosa così Come pacing Io mi aspetto Di più Mi aspetto Di più Io parlo soltanto Di ritmo Ah sì sì Come ritmo sì Ma io mi aspetto Una specie di Via di mezzo Fra l'orgasmo E Dio Cioè Condito Condito Con spade laser Azzurre E rosse È ovvio Che deve essere Tipo L'evento Mondiale Più importante Della storia È ovvio Ma te non fa Un minimo Di paura Ma te non fa Paura Questa cosa Ma lascia stare Certo mi fa paura Non possono sbagliare Perché io ogni tanto Ci penso Ma non è vero Certo che possono No Non ho detto Che non potrebbe accadere Non Non devono Sì ma nel senso Che non possono Moralmente Cioè proprio Eh hanno sbagliato Una nuova trilogia Eh Cioè questi qua Ti prego smetti Adesso È un po' Sparata grossa Però Eh Hanno fatto Cose Con la trilogia Il punto Che non Se sbagli Kenobi È finito Star Wars Se sbagli Kenobi Non c'è modo Per rianimare Star Wars È fine Ma Per questo Non possono sbagliare Ma Perché Non sono andati Allo stanco George A chiedergli aiuto Perché Kenobi Ma perché è stanco Farebbe Schifo Non ne avrebbe Kenobi Era il suo personaggio Era il personaggio Che amava di più Non ne ha voglia E non c'è niente di peggio Di avere Un George Lucas Che deve lavorare Sotto la Disney Contro voglia Cioè E Purtroppo È Sto lupo mannaro Però Aspetta un secondo Vado A sgridare Il mio cane Cane Già Cos'è sto Eh Benvenuti qui Siamo qui Riuniti in attesa Del Sgridatore Di cani 2.0 Puntata numero 1 Mannaggia cane Quella candida sera Solcavano le onde Due lupi mannari Che chiamavano il suo vecchio collega All'interno Della casa TK Tush Dopo questo breve stacco pubblicitario E eccoci qua Ci sei? Sì ci sono Che bocca di sono E Cosa stavo dicendo? George Lucas è stanco Ah sì Cioè Io sono il primo a dire Porca miseria Mi annunciano Un nuovo prodotto di Star Wars Brandizzato George Lucas Minchino al mondo Sono il primo a dirlo Cioè Lo vorrei Però poi sono realista E A meno che non Non gli diano davvero Il miglior contesto Del mondo E lui è molto testone È molto testone Quindi Non credo riuscirebbe Neanche a godersi L'idea di tornare a fare Star Wars Cioè proprio Non ce la fa Però Non ce la fa Qua non si tra Allora Anch'io non credo Tornerebbe Non tornerebbe Anche perché ormai Cioè Giochi sono fatti L'hanno già finito Quindi non è che Può tornare George Lucas Ormai no Cioè Oh Poi chissà Potrebbero fare le sorpresone Che in verità L'ha fatto George Però No ma sai Basta Cioè Basta un episodio Lo direbbero prima C'è nel senso È un Serie tv Con tanti registi Basta Una E già Siamo contenti Ma fosse anche un episodio Di Andor Diretto da George Lucas Capisci Quanto ridicolosia Si è già contento Si però Si però Il vero discorso è che Obi-Wan Il Obi-Wan Con Anakin Anakin Obi-Wan Vader Cioè Quello Quella parte lì Ciò che ha fatto Fare A Lucas La prequel Ciò da cui è partito tutto In episodio 4 Cioè Quindi Dirti Guarda Tieni Fai la serie che vuoi Falla Raccontaci la storia di Kenobi Falla tu Perché tanto E ha libero Arbitro Totale Può fare quello che vuole Perché Può farlo Perché non andrei a fare grossi problemi in giro Perché tanto A noi Io prego I Dio Che non faranno in ogni modo Per farci comparire La Bad Batch O Cagate simili Ma dove Io In Kenobi In Kenobi Ma che cazzo ne sai Ma che cazzo ne sai Tu Ne lo so Che Costa Avere Sette Temura Mollison Diversi Ma lui adesso Grazie alla Polynesian Spa È fresco E giovane Come mai nella vita Sì ma I soldi Lui Lui Non può fare altro Nella vita Lui Non si sperava più ormai Quando gli hanno detto Ah guarda Sai Boba Fett è vivo Sì È uscito dal suo stanzino Sì sì Carico la molla Ora Nel senso I modi per sbagliare Kenobi Sono infiniti Quindi Se stiamo qua a elencarli Semplicemente ci viene Ma di pancia Sì 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 Però Ti posso dire Questa cosa Che appunto Non mi ricordo più Neanche la fonte Però Ovviamente Ci ricordiamo tutti Che Kenobi Teoricamente Doveva essere un film Cioè Sono secoli Che esiste sto rumor Secoli Cioè da prima di Rogue One Si Parla di sto film di Kenobi Ok Sì Assolutamente sì Film serie Serie film E il progetto è passato Sotto mille mani E c'è stato un punto In tutti questi anni In cui Si diceva Ok Si fa una miniserie Dove Kenobi Ricompare nell'ultimo episodio Insomma Un po' Luke Skywalker In Star Wars 7 Cioè Era Kenobi Era in realtà La ricerca Di Obi-Wan Kenobi Si trovava all'ultimo episodio Il fine E ovviamente Ecco Cioè La fonte Non mi ricordo quale Aveva confermato Che Sta cosa È stata cassata A mille per cento Ma proprio malissima Cioè Che minchia Avete scritto No Quindi Però Ovviamente Un battito ti salta Quando Capisci Che è un certo Momento del mondo Hanno pensato Il progetto Kenobi Era quello Esatto Si dice Oh no Cosa Mamma mia Drividi Not again Please Ma soprattutto Dwight No ma Ripeto Iwan poteva dire Tante cose E lo so Che è una frase Stupida Quella di dire I fan saranno contenti Però Iwan è Iwan Cioè Se Iwan dice I fan Saranno soddisfatti Non è perché C'è la Disney Che punta il cecchino Contro di lui Perché poteva dire Semplicemente Non posso dirvi niente Ciao Arrivederci Non so Mi fido delle sue parole Non quelle di Cioè Di nessun altro Mi fido Ok Cioè Iwan dice Secondo me I fan saranno contenti Potremmo fidarci Un po' di te Eh sì Cioè lui La vive Anche lui In prima persona Sulla sua dannata pelle Come un ritorno Cioè Se non può sentirsi Soddisfatto lui Capisci Cioè proprio No no Questo ovviamente Aumenta ancora di più L'hype Per ogni cosa E Perché davvero Non si può sbagliare A questo punto Non si può sbagliare No no Se devono fare una roba brutta Era meglio non farlo Detta come va detto Ah Questo Sicuramente È il mio resoconto Assolutamente Lascia spazio ai fumettisti Ai disegnatori Che si divertono E possono fare Delle belle storie Ma se devi fare una Miniserie del cazzo Detta inglese Sure Tanto vale Lasciarla lì dove è Assolutamente Ma L'hype È con noi L'hype È a mille È veramente a mille In attesa di vedere Un trailer Domani Non è vero Però guarda che secondo me Potrebbe arrivare Entro a fine anno Un trailerino Un teaserino Un trailerino Una cosa simile Allora Ricordiamo a tutti quanti Le date Degli eventi Perché Il 12 novembre Quindi Fra poco più di un mese Esatto Avremo Il Disney Plus Day Che per di più hanno confermato Esatto Dove annunceranno Dove annunceranno Le nuove uscite E quant'altro Dove annunceranno Anche c'era appunto Qualcosa riguardante Il mondo Di guerre stellari Sì Ovviamente Però Quello che è proprio Certo Non sappiamo ovviamente Su cosa C'ergioneranno E quanto Tranne Una unica Certezza enorme E mi sembra Anche giusto Visto che è il 29 Dicembre È che Sarà una giornata A tema Boba Fett Ora non hanno detto Uscirà il trailer Di Book of Boba Perché paradossalmente Può uscire anche prima E questo è il punto Però mi fa Derebbe strano Però quello che hanno detto È che Disney Plus Si trasformerà Tutto a tema Boba Fett Ed è già successa Una cosa del genere Che tipo Tutte le copertine Dei film Sono cambiate Per un breve periodo Credo forse Il May the 4th Scorso Che erano diventate Tipo tutte In stile cartone animato Perché usciva Bad Batch Una cosa del genere E quindi Secondo me Ci saranno Tutte le copertine Dei film Di Star Wars Con Elmo Con Elmo Da Django Magari esatto Con Django Fett In Attack of the Clones Boba Fett Nel 4, 5, 6 Insomma Mandalorian Sarà solo Boba Fett Cambieranno tutte le copertine Cambieranno tutte le copertine E aggiungeranno Questo è appunto È importante Un video Dedicato Alla Dinastia Fett Passato Presente Futuro Questo Parola Futuro Vuol dire Boba Fett Vuol dire Bucopoba Il concetto È che Secondo me Dropperanno Un trailer In Disney Plus Cioè Ci sarà Questo video Speciale Su Boba Fett Che si concluderà Con delle clip Con il trailer Esatto Di Bucopo Cioè Questo è il mio guess Di Boba Perché Non sapevo questa cosa Nel senso Perché è ufficiale Che Il giorno è dedicato A Boba Fett Ma non a Book of Boba Proprio al personaggio Boba Fett E questo è il punto Al personaggio Di Boba Fett Esatto E su Disney Plus Caricheranno Uno speciale Su Boba Fett E sulla sua dinastia Una cosa del genere Hanno detto E quindi Scusa Sulla Legacy A proposito Ecco Quindi sulla legacy Di Boba Fett E quindi legacy Intende proprio Passato Presente Futuro Quindi se non esce un trailer A se stante Allo stesso periodo Eccetera Secondo me Proprio Lo mettono in quello speciale Su Disney Plus E poi una settimana dopo C'è anche Un altro evento Che non mi ricordo Già più Qual è Ah si giusto Il Il Di Com'è che si chiama Era Vabbè La stessa La stessa conferenza Dove annunciarono Per la prima volta Kenobi Perché c'è il Disney Plus Day Perché è l'investor Day Tipo E poi c'è quel di Qualcosa Beh ci sarà Insomma Un'altra Un'altra Simil Conferenza Dove potrebbe uscire Qualcosa interessante Casomai Non più Boba Fett Casomai Potrebbe essere Un teaser Da 20 secondi Di Di Op1 Potrebbe essere Sì esatto E Anche appunto Lo so che lo ignoriamo Però Bad batch Anche Andor Oh bad batch Buon bad batch Eh ma Ricordati che c'è Ricordati che ci sarà La star wars celebration A maggio dell'anno prossimo Devono avere qualcosa Da raccontare A maggio dell'anno prossimo Per me si è Se ci sarà il trailer Di book of boba E bad batch E magari Un'immagine Ufficiale Di Kenobi Secondo me Questo ci sarà Vedremo 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 Sicuramente Boba Fett Tanta roba Perché ormai Dietro Tra virgolette Dietro l'angolo Ma anche Bad batch Adesso che ci faccio caso In effetti è vero Mi era passato Perché dovrebbe uscire Anche lui Relativamente a breve E che il problema È dove lo piazzi Cioè se davvero esce A maggio Kenobi Che ha senso E poi appunto Ti copri l'autunno Con Andor E Mandalorian 3 Perché anche Mandalorian 3 Ha finito le riprese Se non erro O sono a metà Riprese Però Mandalorian 3 Uscirà a Natale Solito Come ha fatto anche Appunto Quindi capisci Che l'anno prossimo Sembra essere Book of boba Gennaio Febbraio Poi Fino a marzo Diciamo Metà marzo Poi da lì Da marzo a maggio Bell batch Perché è anche Una delle cose più lunghe Poi da marzo Poi in estate Kenobi Poi Pausetta Andor E Mandalorian Magari Mandalorian Che inizia appunto A dicembre Anche lui Tanta roba Tanta roba Tanta roba Come schedule Ah come schedule È bella piena Come schedule È molto piena E poi 2023 Si continua Si comincia L'expander Di universe Effettivo Di Mandalorian Quindi Ahsoka Throne Per ora abbiamo Per ora abbiamo Conferme di quello Poi Vediamo cosa faranno Poi i ranger Della nuova repubblica Perché sai Che Non lo so Se hai sentito Ma Si vocifera Che la carano Potrebbe tornare Mimoma Si vociferano Tante cose Ah Sì Ringer Sera stato cancellato E a proposito di voci Quindi Così infatti A proposito di voci Torniamo un attimo A un discorso Che avevamo iniziato All'inizio Si vocifera Anche Ovviamente Di una possibile Passami il termine Stagione 2 O Comunque Di un progetto Similare Di questo Star Wars Vision Ah vuoi fare Segway? Mi piace Che A mio parere È stato Molto Carino Molto Piacevole Ma Non esente Da difetti A mio parere Come tutte Come tutte le cose Per carità di Dio Per carità di Beh no Dio Per me Episodio 5 Non ha difetti Però vabbè Un altro discorso Beh Non è questo Il giorno Quest'oggi Combattiamo Non è questo Il giorno Vedo nei vostri occhi Lo stesso streaming Che potrebbe pagare Il mio cuore Quindi No capisco Ma ti faccio finire E quindi Molto Molto Bellino Ha qualche Qualche cosa Cioè Allora Sono Quando l'ho visto Mi è venuto in mente Il paragone Di Una serie Netflix Serie Chiamiamola così Tra virgolette Per chiamarla Che si chiama Love Death Robot Molto bella Se non l'hai mai vista Te la consiglio Recuperala Sono Un paio di Tra virgolette Stagioni Ovviamente Ho visto tutto All day one Quindi Sì Molto bella Come serie Spero che Poi anche lì Ci sono episodi Più belli Episodi meno belli Anche lì Ci sono degli Temi Esatto Dio appunto L'unico filone È L'amore La morte E il robot Sono Questi tre parole Questi tre Questi tre argomenti Che si È l'unica cosa Che effettivamente Li collega Perché sono Universi diversi Storie diverse Artisti diversi Eccetera Come in questo Nostro vision Che l'unica cosa Che fra un episodio E un altro Li accomuna Effettivamente È L'ambientazione È Guerra stellare L'universo Di Star Wars Ma Devo dire Che in alcuni Episodi Anche se sono Super Super Fantasiosi Registicamente Belli Disegnati Tutti i disegni Possono piacere O meno Va a gusto Ad esempio La puntata Due o tre Non mi ricordo Quella dove c'è Il Padawan Che sopravviva All'Ordine 66 E diventa Il piccola Dove c'è A proposito La comparsata Di Temura Morrison In vestiti Boba Fett I cibi Boba Fett Sì Esatto Dove c'è Il piccolo Padawan Che invece Diventa Fa la rock band In stile Proprio Anim A me Eccolo E' un episodio Che ha fatto Cagare Mi ha veramente Fatto schifo Abbastanza Ribrezzo Però Vabbè Ok E' una tipologia Perché appunto Erano tanti artisti Diversi Se non sbaglio Tutti del Sollevante No Chiederemo Loro sono bravi Io non so niente Di anime Quindi No Però sul micro Male Tutti quanti I registi Era tutta roba fatta Da Gente Giapponesi Cioè Tutti gli studi Dovrebbero essere Giapponesi Proprio Esatto Esatto E quindi E' un tipo di anime Se uno va a vedere La caterva di anime Non ci sono solo Naruto e Dragon Ball Ma no Ce ne sono Mille milioni No Da quelli appunto Teen Da quelli più Dark Ad esempio L'episodio 1 Quello fatto In stile Che mi ricordava Un po' Anche lo stile Di disegno Che c'è Nella Nella patch Di Ghost of Tsushima Per Playstation 4 Tutto bianco Nero Lo stile Kurosawa Ovviamente Lo stile Kurosawa È stato stupendo Bellissimo Tra l'altro A mio parere È anche uno degli episodi Più belli Che per di più Quello è addirittura Animato In realtà In 3D Sì Sì È un semi 3D A me è piaciuto proprio tanto Bello Lo stile Il vero discorso È che Ok È stato fatto Generalmente Dai vari Ma Se ci fai caso Forse è un mio Punto di vista Ogni episodio Ha una macro trama Ok Più o meno Togliendo ad esempio L'episodio Di Boba Fett Dei tizi Dei canterini Dell'Hat Che fa il bassista Cioè Togliendo certi Exploati un po' Più assurdi Un po' Tutti gli episodi Diventano Sempre Sì Il cavaliere Zedis Comparso Quello che E combatte Contro il cattivo Cioè E per carità È l'idea di Star Wars L'è quella È un po' Però Mi sembravano Se tu li vedi in ordine In teoria Tu li hai visti in ordine Certo Hai fatto anche la maratona Vi lasciamo Per chi ne ha voglia Di sentire Una approfondita Descrizione Del Del buon cosi Vi lascerà in descrizione Il link Alla sua reaction Se se lo ricorda Se me lo ricorda Se se lo ricorda Se no Andatela a trovare Sul canale Ehm Almeno A mio parere Se te li vedi Appunto Tutti di fila Quando vai a vedere I ultimi episodi Ti sa un po' Ti già visto O sbaglio Sì Sì È normale No È quello Che mi è stato Un po' Sulle palle Perché non è normale È normale Perché per assurdo Il Cazzo Che ha fatto Il peggiore episodio A mio gusto Non obiettivo Gusto personale Proprio per Se dovessi scegliere Di guardare Non guarderei L'episodio Dove canta La canzone Tra l'altro Io guardando L'ho doppiato in italiano In italiano La canzone era Obrobriosa Dovrei Riguardarmi In inglese Forse si salva La versione italiana Non era Obrobriosa Era Un miracolo Che fosse uscita In quel modo Non sto dicendo Che era una bella canzone Ma fidati È un miracolo Che sia uscita In quel modo E fidati Io l'ho sentita In inglese È peggio È cento volte peggio No Non ci credo No dai Io ho detto Eh vabbè Che schifo Vabbè Se com'è Doppiare la canzone Non è così facile Non solo nel cantare Cioè non soltanto le parole Ma pure Come è cantato È peggio Addirittura Incredibile Incredibile Io appunto Come sai Guardo tutto in inglese Ormai star wars Ma io vision Me lo sono guardato in italiano Perché l'america Non sa Categoricamente Adattare Perché non vuole neanche Adattare Bene I prodotti giapponesi Punto Cioè io ho fatto Un intero percorso E mi mangio le mani Con un po' Di miei amici Mi sono recuperato Praticamente tutti i classici Miyazaki Che non avevo ancora visto Dello studio Ghibli Li ho visti in inglese Quei sottotitoli Volutamente in italiano Perché volevo vedere L'adattamento italiano Cioè leggevo Terribile Leggevo l'adattamento italiano Mentre ascoltavo L'adattamento inglese Ma e ti giuro Perché c'è proprio Intere sottotrame Tagliate A causa di quello Che hanno trascritto E alla censura Americana Cioè È assurdo In italiano Leggevo una storia E ne ascoltavo un'altra Praticamente È assurdo Proprio Non vogliono E non sanno Adattare bene I prodotti giapponesi Quindi No Italiano Travita su quello Sì 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 E Infatti Tu non hai idea I soliti video Degli Star Wars News Che cito sempre Che escono ogni giovedì Sul canale ufficiale No Praticamente Durano 5 minuti Ok La settimana in cui Usciva Star Wars Vision Hanno dedicato 2 minuti interi Su 5 A dire Ragazzi Su Disney Plus Esce sia in inglese Che in giapponese Godetevelo in entrambe le lingue Non cominciate a lottare Tra di voi Su quale versione è meglio Esistono entrambe le versioni Godetevela in ambo le versioni E' apposta così E' apposta così Basta Per favore E' questo prima ancora Che usciste Capisci Quindi Sono partiti con le mani avanti Subito Canale ufficiale di Star Wars Dio mio Che mondo viviamo L'avrei mai detto Però hai capito Cosa intendo E' stato proprio Quell'episodio lì Che a mio parere E' il più bruttino E' il meno riguardabile Che però ti ha detto Non c'è Solo Il Jedi solitario Stile Ronin Che fa figo Perché obiettivamente E' più fico Per carità di Dio E' molto più fico Anzi no Per me l'episodio Uno dei peggiori in assoluto E' quello Anche se disegnato In maniera adorabile Bellissima E' quello dove c'è Il piccolo robottino Che sembra Non mi ricordo il nome Che il suo creatore Era un Jedi Senza braccia Blablabla Sì Quello lì è peggiore Che era il E' chiaramente Il vecchio di Conan Di esplorando il corpo umano No Di esplorando il corpo umano E' presente quello Che abbiamo tutti nel cervello E' chiaramente lui E' un cameo Pochi l'hanno riconosciuto Quello è sicuramente Il peggiore Solamente perché Hanno Lì è stato fatto Un errore A livello Della Dell'ideologia Di Star Wars Perché Guarda C'è nel senso Un robot Cioè Ma è alimentato Dal cristallo Kyber Quindi Quella è la loro scusa Il robot è alimentato Dal cristallo Kyber Che ha dentro di sé E' per questo Che si sente chiamato Della forza Ora Io sono il primo a dire Robo Force sensitive Minchiata Sono il primo a dirlo Però capisco Lo studio giapponese Che dice Si si che è una storia Alternativa Per carità E quindi Il mio problema Non è quello Ma in realtà Il mio problema È l'esecuzione Cioè Metà dell'audio L'hanno buttato In un cestino Non c'è La musica è sempre La stessa Tutto il tempo Letteralmente Non sto scherzando Non ho fatto il test È quella I momenti di calma I momenti di battaglia È la stessa musica A zero pathos È piattissimo Inutile Eseguito malissimo Fine Cioè il concetto Non è neanche il problema È proprio l'esecuzione Per me Il problema Poi non sono d'accordo Con le loro idee Non mi piace Però Non è lì Che cade Tutto Appunto Come dici te Per il secondo Eh però Già lì Già lì Per me È stato Un grosso allarme Forse non mi ha fatto godere Il poco Interessante che c'era Quindi Però Poi ci sono degli episodi Molto ispirati Come appunto Il primo episodio O anche quello Dove alla fine È uno degli ultimi Mi pare Quello dove Il Il Jedi Invece alla fine Si unisce Ai Sith Sì è l'ultimo L'ultimo mi pare Che Che Dici Wow Perché è vero Perché capita anche quello Perché Gli altri finiscono tutti In maniera positiva Se ci fai caso Sono tutti happy ending Ma quello no Eh No Perché no Perché non c'è sempre L'happy ending A meno che non vai In un centro massaggi Ok Di Star Wars Per di più Un centro massaggi Di Star Wars Certo 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 E molto bene Però Complessivamente Analizzandolo in maniera Complessiva Senza andare ad analizzare L'episodio per episodio Perché poi Diventerebbe troppo lunga A me è piaciuto È stato un bel esperimento E Sarebbe interessante Riprovarlo Casomai Non sempre Cioè La visione Del sollevante Almeno da quello Che viene Ti guardi Noi puntate Dici ok La loro visione È quella Non sono tutti Gli autori È chiaro Però Sì è che è il suo discorso Cioè appunto Tu Dai un compito Ok Avete la possibilità L'unica Nella vostra vita Di raccontare una storia Di Star Wars Via Nel senso In quanto Tutti quanti vogliono Far la storia Del Ronin Jedi vs Sith Eh ma certo Vogliono quasi tutti farlo Eh però È normale Per questo Dicevo anch'io prima È normale Perché è un indone Naturale Perché loro Si vedono come individui Ovviamente Non come gruppo Certo 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 Però mi piacerebbe Anche una Una stagione due Diciamo Dove Casomai hanno Possono avere Un minimo Di linee guida Oppure La possibilità Agli stessi autori Di dare Un'altra storia Sperando Che non sia Un continuo Della vecchia Non lo so Però comunque O un simile Perché no Insomma ci sono Tanti studi In Europa Perché no Ci sono tantissimi C'è un progetto Della Della DC Riguardante Batman Sì ho visto Uscire a breve Molto interessante Worldwide A livello mondiale Dove In tutto il mondo Vari disegnatori Racconteranno Una storia di Batman È Batman Quindi quello fa Cioè picchi cattivi È più o meno Oscuro Salva Robin O viene salvato Da lui Cioè È Batman Ok Per quanto io adori Il signor Wayne La storia è più o meno Sono quelle Da 60 anni Ad oggi 80 Ah poter Eh 80 No beh però Dai Di primi anni Era veramente ridicolo Sì era ridicolo Però Mi piace che in realtà La descrizione di prima È quella Cioè lui picca i cattivi A volte salva Robin A volte è salvato da Robin Quello è da 80 anni Sì perché Sì sì Beh effettivamente Se uno la volesse Proprio dire In maniera Due parole È quello Poi perché Dammi le sfaccettature Blah 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 Però mi piacerebbe vedere Un qualcosina in più Mi sarebbe piaciuto Casomai Uno o due episodi Non lo so Ho un episodio dove Fanno vedere Non lo so La vita degli Stormtrooper Per dire Una stupidaggine Un episodio è Lo Stormtrooper E fanno vedere La vita dello Stormtrooper La sua giornata tipo No capisco Capisco Io E un altro episodio Invece è Blah Un'altra cosa di Che sappiamo poco Non lo so Dove puoi Appunto avere Tanto Hai visto che Hanno avuto la licenza Di fare Qualsiasi cosa Cioè I gemelli Nella forza Che hanno Due Che hanno due Star Destroyer Uno attaccato All'altro Scusa Infatti per me Che Quello lì È il peggiore Dai è bellissimo No Tobi Tobi è il peggiore A livello di esecuzione The Twins È il peggiore A livello concettuale Questo è il mio Verdetto Dai È bellissima La cosa Di Star Destroyer Ah siamo gemelli Quindi li costruiamo Due Star Destroyer Attaccati Uno all'altro Bellissima Voto 10 Beh però dai Lì invece l'idea Di avere le armature Pensa che io La prima volta Che fanno vedere In scena Il fratello Che quando Sta andando a rubare Il cristallo Vabbè Io ho detto Cazzo Vader Poi ho capito Boh che strano Figo Perché sembrava Vader Obiettivamente Appunto Eh vabbè Il design è tutto così Vediamo I poperini Niente L'originale Zero Anche l'inquadratura Null Sì 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 Poi ho detto Ah no Non è Vader Aspetta Poi vabbè Poi succedono cose Però tipo il combattimento Non è brutto R2 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 Ti svito il coranio R2 Quelli proprio È il bambino Che ha inventato La storiella Quello di Elba Eh sì È il fan Quello era Il fan sfegatato Che insomma Gli hanno detto Ok puoi animarla Ce l'ho già la storia Apre il calsetto Data 1991 Del bambino Che Esatto Che ha imparato A scrivere Ah Davide Mi ricordo che Una ragazza Mi ha scritto questo Capito Ah va Ci sta Sì 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 Assolutamente Si vede chiaramente Quello è proprio Fatto dal Dal fan Sfegatato Sfegatato Scemo Infantile Bambino Inutile Perché il fan vero Fa quello che dici te Raccontare la storia Di uno stormtrooper Nella sua vita quotidiana Eh Lo so Lo so Però E' meno Vai vai E' meno interessante Purtroppo E questo è il vero discorso E come dicivi te Se ti do Una possibilità Nella vita Io Faccio la storia Che mi piace Ad esempio Come quella Bellissima Veramente bellissima Dove Dove Aspetta Forse mi sto confondendo No sì Che ci sono Il maestro Che tipo Dove c'è lei Che è un Jedi Che è una ragazza E c'è il suo maestro Che invece è quello Con il fucile Da cecchino Che attaccano Con le specie di predoni Quello è un episodio bellissimo The Village Pride Esatto Bellissimo Come episodio Stupendo Però Se uno volesse essere Pignolo Non è che è così diverso Dall'episodio 1 Eh Beh Il assunto È quello Ok Però L'episodio 1 Punta sullo spectacle Sull'essere spettacolare Sì sì Il quarto invece Porca miseria Cerca di crearti Un mondo sul serio Cioè L'uno è praticamente Kurosawa Ha ispirato Come mille altre cose George Lucas Nel fare Star Wars Ora portiamo Indietro Star Wars Allo suo originale padrone Kurosawa E quindi ha messo Tutti gli stereotipi Possibili Immaginabili Sia dell'uno Che dell'altro mondo Assieme Assolutamente sì Assolutamente sì E funziona infatti Per quello The Village Pride Invece Ricordiamoci È uno dei miei preferiti In assoluto Forse Sono sempre dubbio Se mettere Poi ti chiederò Qual è il tuo preferito Però Te lo chiedo subito Così Non facciamo gaff Allora Il mio preferito Ah Io devo ancora Avere una seconda Visione Della serie Io non l'ho fatta La seconda Visione Quindi Io Però Io credo Che Io ce l'ho Un mio preferito Ma È il mio preferito Alla prima visione E non è detto Che sia quello Giusto Perché Ce n'ho anch'io Alcuni Imballo Adora Quello che Dici Cazzo Non me lo potrò Mai scordare È il primo episodio Ok Ma semplicemente Perché è quello Che Apre le danze Arriva In maniera Molto Arrogante Perché È molto Impattante Molto Impattante Sì sì A livello estetico A livello di tematica A livello di Star Wars Style Come dire E Kurosawa Appunto Cioè Tu vedi proprio L'idea del Ronin Il fatto che lui Estrae la spada Laser Come se fosse Una katana Dove Che dopo Lo fanno tutti Ma Quello che fa lui È che La rimette Pure dentro Come fosse una katana Esatto Sì 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 È proprio Lo fanno tutti È come cosa Dopo Si fa i katana Però Lì Mi ha preso Ma probabilmente Perché è il primo E non credo Che sia un caso Che sia stato messo Come primo episodio No no Assolutamente Anche perché è molto basic In realtà Sì sì In verità Come storia È la più base Di tutti È il Ronin Che non è neanche Però il fatto che lui Ha una spada rossa E la tizia stessa Diceva Tu Non sei un Jedi Hai la spada rossa No Non sono un Jedi Cioè A me È ispirato tanto Poi mi è ispirato molto Anche il fatto Che si sono viste Le diverse razze Che è stato anche Abbastanza cruento In un certo senso Rispetto agli altri episodi Un po' più crudo A me A me Quello lì È stato Io adoro Lo battezzo Come mi è preferito Sicuramente Il village È un altro Che ho adorato Alla follia Ma è piaciuto anche molto Quello dove c'è la L'ultimo Mi è piaciuto molto Ma anche quello Penultimo O il terzo ultimo Mi ricordo Quello dove c'è La coniglietta Ok L'open docio Quello mi è piaciuto molto Però Ad ora Io battezzerei Il primo episodio Come preferito Ok Ma mi riservo Il futuro Di poter cambiare idea A una seconda visione Perché per me Certi episodi Poi visti una volta Fanno effetto Love Death Robot Quindi Boom Devi cambiare visuale Devi cambiare ottica di vista Non devi pensare All'episodio prima A quello dopo Perché sono tutte cose diverse Non sono collegati E quindi Per me Per quel motivo lì Dico Potrebbe Cambiare l'opinione Perché casomai Ho visto due tre volte L'episodio Il villaggio Che invece Ha una storia Molto più profonda E dei personaggi scritti Meglio Perché sono scritti E non sono delle macchiette Come dell'uno Obiettivamente Per l'uno Lei è cattiva Perché è cattiva Cioè ok Certo Perché è vestito di nero E lui è un figo Esatto E lui è un figo Perché è il Ronin Solitario Va bene Ok va bene Allora fine Fine la descrizione Dei personaggi Pure maschere Invece Già Certo Certo Mentre invece Casomai appunto Nel episodio del villaggio Come hai detto te Sono sicuramente Più precisi Personaggi Oh Oddio Mi stavo scordando L'episodio Del duello Quello dove ci sono Allievo e maestro Con Il vecchio Con doppie lama A livello di scontro Bellissimo Io credo che tu Non abbia citato Solo Quello che il mondo Considera il migliore Quello del Ronin Con il droidino Il Ronin Con il droidino Tu hai citato Tutti gli episodi Tranne uno E quell'uno Che non hai citato E quello Che tutti quanti Mettono in primo posto Come il loro preferito Quella Quella specie di R2 Di due Col cappello di paglia Ma no Quello è The Duel Quello è il primo Quello che tu hai messo Come preferito Eh No Ho detto Ce n'è uno Che tu non hai citato Che è il preferito Di tutti Nel mondo Quello dove c'è la ragazza Dove c'è il fabbricante Di spade laser Con il duello Dei Sì Con i Sith Sì A me è piaciuto Molto Ma molto come lore No sì Mi faceva molto ridere Semplicemente sta cosa Che appunto Esiste il mondo Che dicono Ah no sì Il nono Jedi È il migliore Sotto ogni punto di vista E gli altri Sono ok Cioè più E invece per me Non è vero Esatto Per me non è vero Per me non è Per me A mio parere Non è sicuramente Il mio preferito No 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 Molto bello È chiaramente Uno degli episodi Molto belli Ma non è sicuramente Uno dei miei preferiti Assolutamente no Anche perché Adesso Detta come va detta Facile Quindi Vai Chissà quanti Di centinaia Di anni prima Ti inventi Una storia Con delle spade laser Fatto Beh Insomma Vabbè però Non è che ha fatto Solo quello Cioè In realtà A livello di costruzione Narrativa No 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 È un signor episodio Anzi Io credo Io credo Che possa vincere Il premio Di miglior Costruzione Narrativa Proprio Parola di costruzione Cioè L'idea Dei vari personaggi Nei vari luoghi Il fatto di fare L'elemento mistero Da una parte Action dall'altra Nella prima parte Poi Le parti comiche Si uniscono Molto bene E poi c'è un twist Fantastico E cioè Funziona la costruzione In una maniera Egregia Poi non è Il mio preferito Il mio preferito È The Village Bride Il quarto Però Anche per me Sta molto in alto In realtà In non Jedi Ma sicuramente È un bellissimo Bellissimo episodio Per Per quella ragione Lì Però 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 sì Insomma Comunque Pensare che In realtà The Duel Non è neanche Ambientato Nella nostra Galasse di Star Wars Cioè Proprio È confermato Dagli autori Che Cioè Non puoi metterlo Nella timeline Di Star Wars Perché Non è parte Nella nostra Timeline Di Star Wars È proprio Le vecchie Guerre Sith Che c'erano Un tempo Erano Feudali Con una struttura Completamente diversa Dalla nostra Cioè Da quella che possiamo Conoscere noi Non c'è Un legame Infatti No Non no Infatti è buffo Perché appunto Uno dei Degli scagnosi In realtà C'ha tipo Un elmo Da First Order Mixato Con altri elementi Cioè Proprio Non è importante Quindi No 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 È chiaro Che è una serie Che rimane A prendere Un po' Il tempo Che trova Purtroppo Vabbè Allora Ti dico Quello Ti dico appunto Quest'ultima cosa Per ricollegarmi Poi ti faccio Finire a te Tutto Quello che è Ancora da dire Su Visions No Tutto Tutto diventerebbe Troppo lungo No vabbè Tutto quello che puoi Ancora condividere Dico E Allora Cioè Il concetto Del progetto Visions Per me E Per chi ha visto Le quattro ore Complete Sabe Che l'ho detto È Cioè Tu prima Hai fatto un discorso Sicuramente Molto Giusto Cioè Basta fare Jedi vs Sith Voglio anche qualcosa Di più originale Tipo Vediamo 24 ore Di uno Stormtrooper Abbiamo già detto Perché Purtroppo Questo E purtroppo E per fortuna In un certo senso Questo non poteva succedere Perché quello lì Proprio È la modalità di pensiero Da fan fiction Che è Diverso In realtà Dall'effetto Vision Anche perché Vision Per me Doveva proprio essere Siamo giapponesi Abbiamo una cultura Proprio Estremamente Diversa Da noi orientali Scusa occidentali E E quindi Quale miglior Modo Per creare Qualcosa di Star Wars Che abbia Qualcosa della nostra cultura Proprio profonda E sicuramente Ci saranno stati Alcuni episodi Con elementi Della loro cultura Che non abbiamo neanche colto Da quanto sono profondi Sicuramente Sicuramente Però The Village Bride È stato l'unico Che è riuscito A farmi Sentire Che ci avevano davvero Messo qualcosa Di loro Anche se non potevo Capirlo fino in fondo Perché appunto Non fa parte Della mia cultura Ma ho notato Che l'hanno messo Ed è appunto Tutta quella prima parte Dove vanno a contatto Con la montagna E rivedono i ricordi All'interno Riecheggiati Attraverso la forza Queste proiezioni Certo E sarà appunto Anche lì Non lo capisco Perché non fa parte Della mia cultura In senso stretto Però si vede Però lo senti Te lo fanno sentire Esatto Me lo fanno sentire E comunque Mi danno una chiave di lettura Per la quale posso Comunque viverla Anche io Che non ne so niente E quella è la prima metà Che ti fa per di più Entrare in questo mondo E poi la seconda metà È invece Molto occidentale Molto Star Wars Like E quindi è la perfetta unione Di questi due mondi In un modo appunto Un pochino più intimo A differenza di The Duel Che anche lì È uno di quelli che funziona Molto bene Come Star Wars Visions Per quello che abbiamo detto Però lavora appunto Su un ambito Più sullo spettacolo E superficiale Sì È molto superficiale Esatto Esecuzione Magistrale Assolutamente Nessuno può dire nulla Però finisce lì poi Esatto Il punto è che Il loro intento era quello Certo certo Ognuno aveva un obiettivo diverso Non è come il terzo episodio Come anche Dove cerchi di pompare Il nulla Qual è il terzo? È il gemelli Il canterino Il gemelli No Oddio Beh sì anche il canterino Adesso Non parliamo del migliore Non parliamo Il peggiore Tu quindi Tu il peggiore Te l'ho detto I peggiori per me Sono due per forza Uno 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 Puoi decidere Hai il potere Di dire Dicono Così Salve Mi chiamo Mi chiamo Mi chiamo Walt Disney Sono tornato in vita Dopo che sono stato invernato Puoi decidere di cambiare Un episodio di Vision Con una trama A tua scelta Purtroppo Devo scegliere Sulla trama Ne scegliere Ne sceglierne uno E purtroppo Devo scegliere Tobi Perché l'esecuzione Sbagliare l'esecuzione Per di più Nell'ambito sonoro In Star Wars Che ha creato Il sonoro Fra un po' Non so come dire Non c'è un film Di qualsiasi genere Tipo Che non sia Targato Skywalker Sound In fondo I titoli di coda E quindi farmi Un corto Dove A causa di una regia Sconclusionata Un montaggio video Inesistenze Un sonoro Piatto E un montaggio sonoro Da vomito È proprio un insulto È un insulto Il terzo è ridicolo Cioè non ci fosse Tobi Distruggerà il terzo E lo distruggo E lo distruggo comunque Cioè è ridicolo Sotto ogni punto di vista Il punto è che loro Volevano fare qualcosa Di ridicolo Sotto ogni punto di vista Però lo hanno fatto Con una originalità Pari a zero Che è frustrante Solo che l'esecuzione È molto buona Cioè non è il mio stile preferito Però Volevano fare Over the top Dynamic Figure distorte E l'hanno fatto bene Sì Era in stile Kill la kill Non so se conosci l'anima Di fama Forse Sono gli stessi Per di più Non vorrei dire Potrebbero essere gli stessi Mi hai evocato Questo ricordo Che avevo sentito Potrebbero essere gli stessi Però sì No Tobi Appunto Io Purtroppo Appunto Devo Se devo scegliere Sempre cosa è peggio Quando sbagli L'esecuzione È peggio Dell'idea Perché una brutta idea Eseguita bene Lo vivi meglio Di una bella idea Eseguita male E Soprattutto Perché non è neanche Una bella idea Sapevo che avresti detto Scusami Dai No esatto L'idea comunque Era poco convincente Ma infatti Mi interessava di più Il resto Nel senso che Teoricamente Non mi ricordo Però tipo Quel mondo lì Che vediamo È tipo Un mondo Un pianeta desertico Ma fra milioni di anni Una cosa del genere Quindi in realtà Il loro intento lì Era quello Di riportare vita Su quel pianeta Sì E quindi C'era tutta Sta back story Che aveva anche lì Un sacco di potenziale E uno dice Ok A proposito Che tu dicevi Abbiamo bisogno Di qualcosa di originale Star Wars Minchia Un dottore E un robot In stile Appunto Geppetto e Pinocchio Palesemente Che cercano Di riportare vita In un pianeta Ok Stiamo vedendo Una cosa di nuovo Poi non è vero No Perché diventa Che lui È il solito Jedi Che è andato in esilio A nascondersi Dai Sith Che poi lo trovano Tira fuori La spada l'agene Il bero bottino Stile Astrovoi Inizia a combattere Usando la forza Contro il crociato Nero Devastante Con il sottofondo Di bongo E Certo E sì Per forza Devo punirlo No Mi fa piacere Che siamo d'accordo Sul peggiore episodio Sì Ma Mi ripeto Dei twins Per un pelo Eh Ma sai che Allora Io l'ho vissuto In maniera diversa L'ho vissuto A parte l'episodio Dopo due o tre cose Cioè Dopo il finto Veder Io Sei entrato nel mood Lo stile del disegno Sì Probabilmente sì Perché ho detto Ok Questo è un episodio Un po' Trescione È un po' Cazzereccio Cioè Quando mi hanno fatto vedere Il doppio star destroyer Attaccato uno all'altro Perché Perché sono gemelli Basta Basta Io lì ho detto Ok Ok Ti faccio capire una cosa Ci sono Ti faccio capire il mio punto di vista Al volo Cioè Per tutto l'episodio Loro sono nello spazio Parlando e respirando No? E poi compare Certo E compare a un certo punto Il droide Protocollare Con il casco Per respirare Beh Ma sì È chiaramente Tutto un presone Dai No è quello che ti sto dicendo È chiaro Quello che ti sto dicendo È che Questo Mi va benissimo Cioè Questo è il modo In cui fai il trash apposta L'over the top stupido E prendi Quello che stai facendo In maniera ridicola Quello sono più che d'accordo Cioè Infatti Sono anche più che d'accordo Sul fatto di Voglio fare l'episodio Super trash Con i poteri assurdi Infatti tipo Lei con le fruste laser Eccetera È bello Cioè La frusta laser È già È la cosa più originale Che vedo lì Ma anche Lei che spara Il laser Sotto il tacco Mi va bene Non ho problemi Con quello Ho problemi Appunto Con Ah Aspetta R2 Fare o non fare Non c'è Provare Ma tua sorella Ce n'è senso Capisci Quindi Quindi io sono più che d'accordo Sul prendersi in giro Fare la cosa più trash Over the top del secolo Va bene Però Sì un po' più originale Cioè Pure la Holdo Manuver Mi hanno fatto Capisci Sì Sì Cioè Bellissimo A me Ha fatto schifo Perché non mi piace Cioè Rispetto a altri Però Però È un trasciume Che mi Mi è piaciuto A me È piaciuto meno Quello della rock band Per dire Ok Sì capisco A me Quello È stato difficile A digerire Poi cos'è Il secondo episodio Sì Ma anche lì Come il primo Non è a caso Anche il secondo È così diverso Dal primo Che hai fatto apposta Eh Eh Ma appunto Per quello ti dico Dovrei avere Una seconda visione Del tutto Guardando In maniera diversa Prima l'uno Poi il nove Poi il sei Poi il quattro Capito a caso Perché sono a caso Non sono collegati E il guardarlo Dopo quello che a me Ha impattato di più Vedere quello lì Che casomai Non è il peggiore Perché dopo L'ho visto il peggiore Che era quello Del robottino Ma Sul momento Quelli di loro Che canticchiano Io che speravo Cioè Che alla fine Che è lui Che fa Sì devi rispettare L'arma Che è un microfono Cioè tu hai trasformato La tua spada Lasi È un microfono Ma non ti hanno insegnato Un cazzo Al tempio Jedi Infatti c'era subito Il meme online No A Jedi weapon Deserves more respect Esatto Cioè scusa A me è veramente Lì È stata dura Ma In sintesi Poi chiudiamo Il discorso Vision Chiudiamo Il podcast Che siamo già Un'ora e venti Eh sì Direi che anche ora Mi è piaciuto Vision Bello Bravi Speriamo in altri prodotti E qua ti faccio Un'altra domandina Sempre riguardante A A te A un prodotto Che è appena uscito Che io devo ancora guardarmi È uscito Lo speciale Lego Star Wars Eh sì Che ho Per loro è già uscita La reaction Esatto Io non l'ho ancora visto Perché A oggi che stiamo registrando Il podcast Non è ancora uscito Perché ho montato oggi Il video Ok Bene allora Vi lasciamo Il link Perché Quando Ci sarà questa conversazione Sarà già sul primo canale La reaction Del cosa Non sul primo canale Sempre qui Su The Tarkin Initiative Ah ok Ah sì Allora vi lasciamo Il link Certo Ho creato un canale Star Wars apposta Per metterci tutto Ciò che riguarda Star Wars Quindi Certo 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 Lasciamo il link In descrizione Allora dimmi Cosa ne dici Tu che l'hai visto Cosa mi dici Quanto dura Non so niente Quanto dura Ma tu l'hai visto Il Christmas special L'anno scorso No Il Lego Christmas special E allora Di che stiamo a parlare E guardate quello Saranno collegati Beh No Non sono collegati Però Appunto L'anno scorso È stato fatto Quell'esperimento lì Ha Più o meno funzionato E quindi Quest'anno Ripetuto Quindi Come l'anno scorso È uno speciale Di tre quarti d'ora Ambientato Post episodio 9 E racconta cose Buffe Poi appunto Anche lì Esattamente Come hai visto The Twins Devi entrare nel mood Cioè E io sono estremamente Vabbè Ma il mood Lego Il mood Lego Sì ok Però appunto Io ho visto Dieci stagioni Di Lego Ninjago Due stagioni Di The Freemaker Adventures Sicuramente Sono più dentro Al loro humor Di te Questo intendo Sono più abituato Però sì Cioè Diciamo che Se lo prendi Per quel che è Sicuramente Trovi Certamente Qualcosa Puoi apprezzare Come ogni prodotto Ha i suoi pregi I suoi difetti È ok Cioè Il primo era ok Il Christmas special E questo è ok Cioè Sicuramente La serie di Freemaker Adventures È meglio In questo senso Secondo me Però non è un brutto prodotto Cioè Mi ha divertito Per quello che doveva fare Anzi Cioè Ci sono appunto E non spoilerò Però ci sono Alcune prime volte Su schermo Del mondo di Star Wars Grazie A questo corto Lego Come lo spoilerò Tu Mi hai chiesto Non spoilererai a me No certo Non sto Non sto In grigolati Quasi spoiler a tutti Qua Attenti a voi Si spoiler a tutto Non sto Spoiler a Venghi o signori Si spoiler a tutto Si Non sto spoilerando Perché ovviamente Non l'hai ancora visto Vabbè 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 Questo Posso apprezzare Posso apprezzare Vi ha parlato fino a Star Wars Visions Nel dettaglio Quindi Penso che sia chiaro Che Che non ci facciamo problemi Ah ok Se non avete visto Star Wars Visions Vi consigliamo Di non guardare Questo video Ah ops 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 Scusate Lo sanno Sanno a cosa vanno incontro E' scritto nella descrizione Per di più Esatto Quindi Attenti a voi Lasciate ogni speranza A voi che guardate il video Va bene Basta Un'ora e vent'altro Addio Signore e signori E' stato molto bello Lasciate un bel like Chino al video Se vi è piaciuto Nei commenti Fateci sapere anche voi Migliore episodio Peggiore episodio Non dico Tutti La lista mi sembra esagerata Beh l'hanno già fatta Perché appunto diventa Te l'hanno già fatto L'hanno già fatta L'hanno già fatta Abbiamo soltanto detto Migliore e peggiore No No Noi abbiamo solo Migliore e peggiore Perché se no Il tier list diventava Lungo e complicato E appunto Per il tier list Voglio riservarmi Eventualmente Una seconda visione Sì sì Beh però Lasciatemi un commentino Qua Io voglio saperlo Dai Il vostro preferito E il peggiore Anche senza la motivazione Se voi volete Argomentare Argomentate ben bene Ma sì Sono bravi Argomentano sempre Ah cazzo News veloce News velocissima Oh no Ah Questo Remake Esclusiva temporale Playstation 5 Di Star Wars Di Old Republic Ma ne vogliamo parlare No Cinque minuti No Ma dai cazzo Ragazzi Allora ragazzi Non mi spoilerare niente Per favore Tutti nei commenti Tutti nei commenti Dovete dirmi Se attendete Anche il 2 Perché a sto punto Voglio fare anche Anche il 2 I Sith Lord Perché è bellissimo Ah tra l'altro Sempre nei commenti Rompete le palle a cosi Perché non sarebbe Giocato Nell'1 Nell'2 Lo giocherò Lo giocherò Presto Cioè Ma Perché tu Voglio No Ma allora gioco Direttamente il remake No Lo giocherò E non è per colpa tua Te l'ho detto Lo giocherò presto Avevo già in programma Ok Avevo già in programma Di giocarlo Poi ho annunciato il remake Ho avuto il mio momento di dubbio Però il remake è fra mille anni Quindi A meno giocherò Ritorno al mio punto di partenza A breve inizio Kotor Kotor Sì Per poi fare Il 2 Certo E poi Dulcici in fondo Questo è un piccolo spoiler Che a che cosi non sa Vi annuncio già Che Ha un Mille mila like Più avanti Su questo canale Vedrete anche Star Wars The Old Republic È l'MMO E io e cosi Insieme L'MMO Io e cosi Proveremo insieme L'MMO Stai zitto Non gioco agli MMO Non gioco agli MMO Non me ne frega un cazzo È di Star Wars Stai zitto Brutta merda Ragazzi A 10 mi piace E lo giocheremo Disse quello che prima La live scorsa Piangeva per degli audio comic Audio comic Non so di cose Quali audio comic Appunto No ma io non posso Veggere i fumetti Ascoltando i nei video No Perché sono terrificanti È vero Tu sei terrificante Allora se ti dico L'MMO è terrificante Cosa mi dici L'MMO Dentro il gioco C'è del canonico È l'unica roba Che è rimasta in piedi Dalla morte Della Lucasfilm All'epoca Veramente non è canonico Sì perché Tanto è ambientato È ambientato Mille e mille anni prima Non vuol dire niente Anche il nonno Gedi È ambientato Mille e mille anni dopo E non è canonico Non vuol dire No no Allora facciamo una cosa Non perdiamo tempo Una piccola challenge Al nostro pubblico Al nostro piccolo E simpatico E amorevole pubblico Se Adesso video Arriva a Quanti mi piace Ha preso l'ultimo video Pochi Questi qua Li apro Vediamo Speciale 5.000 iscritti Si gioca l'MMO 5.000 Allora A parte che si Allora facciamo una cosa Oh facciamo una cosa Nei commenti Invece di tutte ste cacate Che vi ho detto Allora Siamo arrivati a 59 iscritti Giusto? 59 5.000 Si fa A 100 iscritti Ma no 5.000 Madonna Senti A 100 A 100 iscritti Appena esce Book of Bob Guarda che se facciamoci L'algoritmo A nostro favore A 100 iscritti Ci arriviamo con uno sternuto E io a dicembre Non inizio L'MMO di Star Wars Quindi Ma non ho detto Che ce lo finiamo Facciamo un gameplay Facciamo vedere un po' Come funziona Facciamo un gameplay Tu mi stai dicendo Di iniziare un gioco Di Star Wars Senza finirlo No Io ho detto di iniziarlo Ho detto di non finirlo Ho detto che ci facciamo un gameplay Ci facciamo un gameplay Cosa vuol dire? Dai facciamoci un gameplay Dai È abbastanza brutto Da giocarci insieme Senti A 100 iscritti Niente promesso Iniziamo l'MMO Con calma No È andata Fisso Fissato Scrivete Condividete A tutti i vostri amici Arriviamo a 100 iscritti Tu sei soltanto il TK TUSH Ricordatelo Andate dai vostri amichetti Andate dai vostri amichetti Vi fate Fate l'iscrizione al canale Così arriviamo a 100 Lo vediamo Lo diciamo in un video In un video futuro Ah siamo a 100 iscritti Bravi Adesso arriverà il video E poi dite ai vostri amici Che possono disiscriverci E vaffanculo Che vanno a vedere No 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 Eh? Senti io Affare fatto ragazzi? Perfetto Devo ancora montare dei video Che ho registrato Nel 2018 Lo capisci? Basta È roba vecchia Brucia tutto No Non è roba vecchia Cioè sì Fai Però nel senso Non è È un Giocatore Se eravamo io e Edo Che giocavamo A mio amico Che giocavamo A War in the North Quindi era vecchio Già nel 2018 Non è quello il punto Il punto Perché la gente vuole vedere Il Signor degli Anelli? Sì Quindi La guerra del nord Per la 360 Io ce l'ho Sì Quello E non è ancora mai più caricato Eh vabbè Caricalo tutto in un giorno Senza tagli No No Un pubblicità ogni 10 minuti Quello sì Però Quello è sul primo canale La pubblicità ogni 10 minuti Sul secondo non è monetizzato Quindi non posso No però Scherzi a parte Appunto Non sto scherzando Ho preso sul serio La questione di Cotor E anzi Dovrei iniziarlo Tipo fra Una settimana 10 giorni Se tutto va bene Che è già È molto prima Di quello che immaginavo E Appunto Sappiatelo Ragazzi In ascolto Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Cotor Lo vedrete Nel 2023 Cioè Il mio Let's Play No No Non lo ascoltate Il mio Let's Play Inizierà nel 2023 Sul canale Se no le altre opzioni sono A 100 mi piace Ci becchiamo io E il cosi E li faccio provare Darth Vader Immortal Per VR È quello certo Oppure Eh ce l'ho Ho c'ho tutto io Oppure Squadron Eh appunto Un mio sogno ovviamente È Avere il visore E farmi L'intera trilogia Di Vader In gameplay Da caricare Cioè nel senso Figurati Lo farei subito Io ce l'ho VR E Immortal Ce l'ho incelofanato Perché ancora Non l'ho aperto E poi parli male di me Eh vabbè Ma lì me lo voglio fare Voglio fare il rascione Quindi lì mi devo mettere Un weekend Mi chiudo in casa E lo faccio Va bene Anche perché il VR Peso giocarci E su di quando E quando combatti Vader Di che la sono Parti come apprendista Mi pare Se non mi ricordo Non lo so Devo ancora giocare Va bene Dai chiudi a StarRiver Basta signori Va bene Va bene Basta Stipo Del tempo Bruciandomi tutto il pomeriggio Su quello Non avevo altro da fare Che lasciare stare Io Scemo Dico Apro il terzo canale Perché ho tempo Non ho tempo Non so cosa sto facendo Non è vero Mi sto inventando Il tempo Va bene Ma perché mi piacciono Fa queste cose Se no Non ci proverei Però ci siamo capiti Basta Chiudiamo il discorso È stato bello Bene signori È stato bello Ci sentiamo Alla prossima settimana Ragazzi Con un nuovo episodio Qui sul Detalking Initiative Commentate Condividete Lasciate un like Ricordatevi che Ai 100 iscritti Facciamo un contenuto Super mega strafichissimo Non si sa quale Non si sa ancora bene quale E voi però Mi raccomando Se avete Una voglia particolare Come super contenuto Provate a dare la vostra Io un po' di idee ve lo date Cosa più importante Più che altro Dovete supportare No Se volete Darci anche qualche idea Per qualche topic Visto che il prossimo mese Probabilmente sarà un periodo Un po' morto Per Star Wars Se oltre ai nostri topic Di cui parleremo sicuramente Se ne aggiungono alcuni Dalla sala Certo Assolutamente Va bene Qui Passo e chiudo Ciao ragazzi Ti Grazie a tutti.